I carabinieri di Fermo hanno eseguito otto ordini di custodia cautelare nei confronti di due persone di origini marocchine, due albanesi, due donne romene e due donne italiane. L'accusa è traffico di cocaina. Il sodalizio criminale sbantellato riforniva il mercato di droga nella fascia costiera fermana e nel maceratese, tra queste Fermo, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Civitanova Marche e Tolentino. L'indagine è stata complessa anche perché gli appartenenti all'organizzazione, capaci di rifornire anche un chilo di cocaina al mese, si muovevano spesso a piedi per evitare pedinamenti.